un'altra panchina nella nostra settimana speciale qua ospiti di music for peace e questa sera prima che inizino il loro concerto abbiamo intercettato i los fastidios niente meno che i los fastidios accidenti a chi l'avrebbe mai detto no ma siamo fortunatissimi noi qua tu non scherzi ma noi siamo fortunatissimi tanto vi presento Enrico che è un po' il portavoce dei los fastidios sono diciamo l'unico membro originale sopravvissuto socio fondatore sopravvissuto in questi 26 anni di attività e che dire con me ci sono altri tre grandissimi musicisti tra grandissimi personaggi che suona nello fastidios da qualche anno meno rispetto al sottoscritto che però stanno dando delle grandi soddisfazioni ai los fastidios e al pubblico che segue los fastidios ascolta voi adesso passate da genova per questa tappa questa sera ma so che state per partire per un tour importante europeo ma noi praticamente diciamo che siamo perennemente in tour perché los fastidios sono una live band nel vero senso della parola ovviamente facciamo anche le nostre produzioni discografiche siamo arrivati abbiamo appunto sfornato l'ottavo album in questi 26 anni di attività uscito a febbraio the sound of revolution il titolo prodotto dalla nostra etichetta indipendente cop records e siamo partiti appunto a promuovere con questo questo tour questo nuovo album lo stiamo promuovendo un po in tutta europa questa sera siamo qui a genova domani saremo a digione in francia dopodomani a colonia e poi un po in tutta europa diciamo praticamente appunto come dicevo siamo una band perennemente in tour perché crediamo moltissimo abbiamo un po quella quella mentalità vecchia scuola quindi band deve essere prima di tutto live questo è quello che piace a noi e piace e siamo veramente orgogliosi questa sera di essere qui in questa serata particolare una serata che è che può anche rispecchiare anche un pochino quello che è il titolo del nostro album il concetto anche del nostro ultimo album del sound of revolution solo della rivoluzione abbiamo tutto bisogno di musica per la rivoluzione e quella di stasera è una vera rivoluzione una rivoluzione che comunque sta portandosi avanti da tanti anni perché questa è una tradizione in quel di genova e noi siamo contenti di entrare in questa tradizione portare la nostra musica di rivoluzione di rivolta in questo spazio che comunque appunto uno spazio vero di rivoluzione vera effettiva solidarietà perché qua sta la rivoluzione non sta certo nelle bombe non sta certo negli armamenti sta nella solidarietà e questa è la vittoria anche della musica una serata come questa che unisce los fastidios i fratelli di solidarietà in rivoluzione su un palco su un palco diciamo strettamente chiamiamolo rock punk ska e poi comunque una serie di situazioni intorno che sono meravigliose io oggi ho girato in questo in questo villaggio e sono rimasto a parte che ci siamo anche noi non da poco poco ma ci sono tantissime bellissime la realtà veramente si respira proprio poi bello si respira proprio l'aria di genova è bello sentirsi lo dire perché noi genovesi siamo sempre abituati a parlare un po della nostra città come qualcosa di vecchio di ormai finito di grigio e invece no e viva il vecchio io dico anche perché anche io ormai ormai ho i miei anni ma comunque al di là di tutto a dire di tutto credo veramente credo veramente che genova sia proprio un esempio lo dico sempre poi una città è una delle città di mare una città portuale una città aperta sono le città che piacciono a me veramente io sono molto molto legato a genova e quando posso ci torno molto volentieri questa sera sono qui anche per suonarci quindi doppiamente contento e ce ne fossero di città come genova ce ne fossero altro altro che vecchia è molto aperta è molto giovane molto avanti perché nella mia città verona situazioni come queste purtroppo nel respiro gran poche ce ne fossero ben venga questa serata ben venga music for peace è lunga vita questo tipo di iniziative grazie allora grazie enrico grazie lo spastidios buon concerto ragazzi grazie mille ovviamente nel mio nel mio monologo mi sono dimenticato di presentare i tre pirati tre reietti che sono insieme a me che divideranno il palco con me questa sera che sono il buon mario che viene non viene da verona rispetto a me ma viene dalla provincia la profonda provincia di venezia cavarzare grandissimo paese della provincia di venezia il buon ciaccio anche lui è gran musicista gran bassista e che viene da dalla romagna da 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 cervia da cervia da cervia e il grandissimo mister drummer dico sempre anche dal palco the king of the drama il miglior batterista del mondo mio omonimo si chiama enrico anche lui detto torre però detto torre che viene da da reggio emilia poviglio ecco siamo qui eccoli qua e lo spastidios quattro reietti che stasera cercheranno di far saltare e divertire un po tutta genova lo farete lo farete sicuramente grazie per essere stati con noi in questa terrazza speciale nella nostra location a music for peace grazie di cuore lunga vita music for peace musica e solidarietà the sound of revolution 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 the sound of revolution